La città di Agrigento dal prossimo 13 dicembre rischia di rimanere ancora più isolata dal resto dello stivale, consentendo solo i collegamenti regionali. Infatti, dopo le soppressioni effettuate da Trenitalia nei collegamenti ferroviari a lunga percorrenza e che nel tempo hanno visto sparire dal cartello delle partenze della stazione centrale i treni per Torino prima e Milano dopo, adesso, secondo le politiche societarie dell'azienda leader dei trasporti ferrati in Italia, dalla città dei tempi dovrebbe cessare anche il collegamento con Roma. Il grido di allarme è stato anticipato con una nota stampa dall'organizzazione sindacale di categoria FIT CISL. Il disimpegno del nuovo progetto di Trenitalia trova la netta opposizione del sindaco della città dei tempi, Marco Zambuto. Non accetteremo mai supinamente un dale doloroso regalo di Natale che le ferrovie stanno preparando per i siciliani e che porterà ad un più grave isolamento della regione dal resto del paese. Queste le parole del sindaco Zambuto. Contatteremo, ha concluso il sindaco di Agrigento, gli altri amministratori della provincia, i sindacati e la società civile per intraprendere insieme i passi più adeguati al riguardo. Quindi ad Agrigento, in un territorio dove mancano importanti infrastrutture come autostrade ed aeroporti e che per raggiungere quest'ultimi, presenti solo a Palermo, Trapani e Catania, bisogna affrontare un viaggio di almeno due ore a causa delle precarie condizioni della rete viaria, si eliminano quei pochi servizi finora attivi, aumentando disagi alla popolazione. Secondo gli ultimi dati, Trenitalia in Sicilia nel 2009 ha accorciato i treni a lunga percorrenza di oltre 5.000 carrozze. Inoltre, le proprie navi traghetto presenti sullo stretto sono state ridotte da 6 a 2 e, come se non bastasse, dallo scorso 1 ottobre dai treni diretti in continente sono stati tolti altri 500 posti a sedere. Se la tratta Agrigento-Roma dal mese prossimo verrà soppressa, un agrigentino che vorrà recarsi in treno nella capitale dovrà necessariamente affrontare un lunghissimo viaggio tramite collegamenti regionali. In pratica, da Agrigento dovrebbe prendere il treno regionale che porta o a Palermo, per poi scendere a Termini Mereza e prendere il collegamento per Messina, o optare per Catania e da lì proseguire per Messina. Il tutto in poco più di 6 ore, non considerando ovviamente i ritardi classici a cui siamo da sempre abituati. Arrivati allo stretto sarebbe poi obbligatorio traghettare a piedi e approdare a Villa San Giovanni e da lì accomodarsi su un treno diretto a Roma. Sentiamo parlare in varie occasioni dello sviluppo turistico della città di Agrigento. La Valle dei Tempri, ricordiamo, essere patrimonio dell'umanità. Ma quali ottimistiche prospettive dobbiamo aspettarci per il settore quando si limita l'afflusso nel territorio dei turisti? Forse, pensiamo noi, gli splendidi templi d'orici di Agrigento che da secoli sono stati visitati da milioni di persone, nei prossimi anni verranno ammirati solo tramite il monitor di un PC ed anziché scattare alla classica foto ricordo ai piedi del Tempio della Concordia, i turisti dovranno accontentarsi di scaricare un'immagine da internet e magari utilizzando Photoshop sovrapporre una propria foto. Forse nei programmi dell'azienda ci potrebbe essere qualcosa che va oltre. Pensandoci bene, le scelte di Trenitalia potrebbero essere state pensate per arrestare la fuga di Cervelli che da anni vede i giovani siciliani partire alla volta delle regioni del nord. Se il motivo della scelta fosse questo, allora noi di Sicilia TV ci complementiamo con il responsabile di Trenitalia in Sicilia e anzi proponiamo a chi di competenza di abolire tutti i collegamenti stradali, navali ed aerei diretti al nord. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un luogo si vedi ilboardsqui delicato, ma glist arrivederci alicopinsato.